La lunga avventura è arrivata a una parte fondamentale della stagione, la finale regionale della Serie C Silver. Alle 18.30 al Padaleo la Svezia tutta dauna tra l'Allianz, Udas e la Diamond. Foggia reduci da due semifinali spettacolari ed intense. I Biagazzuri hanno vinto a Vieste per 82 a 72. I Dauni hanno fatto l'impresa di eliminare il Lennardot, assoluto dominatore della regular season per 71 a 67. Per il presidente Udassino, Giuseppe e Di Giorgio abbiamo preparato in modo impeccabile i quarti della semifinale e anche per questo importante appuntamento cercheremo di non lasciare neanche il minimo dettaglio d'obbligo alla vittoria. Invece per Christian Vigilante, allenatore della Diamond Foggia, arriviamo molto stanchi e infortunati, quindi non so come andrà. E tra l'altro è impensabile che una squadra come il Nardot, che ha dominato dalla prima all'ultima giornata, esca così.